Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il ponte del 2 giugno ha inaugurato di fatto la stagione turistica a San Benedetto. Nel giornale del 2 giugno tantissimi turisti locali, ma da tutte le parti d'Italia. Abbiamo ascoltato un po' dei loro pareri proprio qui sulla spiaggia e sono molto soddisfatti dell'accoglienza san-beledettese. Da Bergamo a San Benedetto come ha scelto questa città? Abbiamo scelto perché ce l'hanno consigliata e volevamo cambiare un po' dalla solita riviera romagnola e abbiamo detto buttiamoci e andiamo un po' più in giù. Soddisfatta della scelta? Ma sì, è molto carino. Sicuramente la cosa più bella che c'è a San Benedetto è il Viale delle Palme che è veramente gestito bene, è veramente molto pulito. Complimenti anche a chi gestisce la pulizia del territorio e chi mantiene il territorio. E poi ci sono anche un sacco di locali veramente molto carini e le persone sono molto cordiali e disponibili. E te, di dove siete? Di Vicenza. La prima volta a San Benedetto? A San Benedetto sì. Come vi sembra? Bello, bello. L'abbiamo trovato bello. Per il momento abbiamo guardato poco perché ieri sera si è arrivati stanchi e morte. Adesso abbiamo fatto la prima passeggiata. Niente, io l'anno scorso ero stato al Lido di Tortoretto e mi è piaciuto e ho detto andiamo da queste parti. Da Milano a San Benedetto, cosa le piace questa città? Non lo so, è il primo giorno che sono qui e quindi sicuramente il mare. La prima volta che è arrivato a San Benedetto? La prima volta che veniamo, sì. Come ha scelto San Benedetto? Così, ha intuito. La conosceva prima di venire? Sì, l'abbiamo sentito, però non eravamo mai venuti, però insomma ne abbiamo sentito parlare sicuramente. Solo per il ponte, diciamo, 2 giugno, domenica? Siamo qua tutto il mese. Allora, buona vacanza e buona permanenza. Grazie mille. Di Pesero in vacanza a San Benedetto, come mai? Siamo venuti a fare un giro, un paio di giorni, per vedere come era San Benedetto. Le piace? Sì, molto. Molto bella. Tenuta bene, in ordine. Pensaci che si può tornare? Sicuramente, certo. Cos'è che le è piaciuto di più? No, un po' tutto. Il lungomare, la spiaggia, tutto, tutto quanto. La stagione è ripartita alla grande, questo momento, dopo due anni di Covid. Come vi sembra questo inizio? A me sembra benissimo, insomma. Ieri era pieno, non c'era posto neanche perché parco già le macchine. Speriamo che si mantenga, vediamo i prossimi giorni, i prossimi mesi. L'inizio della stagione è ottimale, tanta gente, specialmente concentrata nel weekend, però accontentiamoci, no?